good morning si qui sono le diciamo praticamente le le unici e mezza e come dico in questi casi certo una mattina prestissimo una mattinata inoltrata ma comunque mattina easter master maestro o semplicemente o semplicemente david dynch it's mei 3 tutta la zona 22 and it's a Tuesday in Naples a clear very clear morning in this moment very still right now 60 and 60 and 2 Fahrenheit around 19 celsius and this means that it's that day really 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 soft like in these days and this period si pensò proprio clima primaverile anche se leggermente anche sembra anche più estivo more summer climate in the spring climate as ricardo the fever in this moment 37 and 17 five degrees praticamente a stessa temperatura di mattina di ieri però io in generale mi sento comunque meglio credo che è un qualcosa legato soprattutto al naso la c'è la la gulla la catarra insomma la si un po di mal di gola un po tussere pentina però è per questo anche la mente sono un po stancho con la testa mi fa un po male la testa ha tutto dietro ma credo appunto in realtà la febbre e per questo che c'è ma questo punto cosa generale tra tutta la faccia la la gulla eccetera però per il resto io mi sto sentendo meglio quindi spero veramente che domani dopo domani insomma si possa togliere definitivamente io sono convinto credo di sì vedremo per quanto riguarda le video tutti non so se lo faccio ma nel caso lo faccio ovviamente separato da questo quindi occhio anyway a sea and you will just see from the window ti sa dal window i think that this afternoon temperature potrebbe anche salire di qualche grado vedremo però non si vedremo i think that this afternoon temperature potrebbe salire di qualche grado ma non è detto vedremo perché ieri poi è stato appeggiorato il tempo nel pomeriggio è completamente nuovo l'uso vedremo but with this atmosphere the really important thing is that we are going to be enjoying those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful blue skies and golden sunshine i think all along the way per cui bene così che dire in questi casi già ieri era così però ieri poi del pomeriggio è peggiorato per cui said this so from this other mythical window with the white curtain pink flowers and a gray roller shooter not visible but also come say for example from the mythical window with the the orange red the blue green water curtain and it's green green roller shooter behind me on the top rot visible infactor in the shot and finally from my mythical keyboard yamadi gx 640 ipg ipg 625 è vera grazie di him all the people follow vo decendo riporsi un saluto davvero a tutti and also i hope you all have a great breakfast io la farò tra poco con il mio stomaco brontola sì soprattutto spero vi possiate consolare dalle vostre appunto con la colazione sì dalle vostre parti il tempo deve essere brutto al signo dei video tutti in the case i'll do it or tomorrow io la farò